Il Partito Democratico si prepara a lasciare la pescara. La storica sede del PD, ereditata dai DS e, prima ancora dal Partito Comunista, dal 14 luglio sarà sottoposta ad asta pubblica per individuare un locatario che dovrà versare un canone mensile di 1200 euro, vale a dire 14.400 euro annui. Canone rivedibile già dal secondo anno. Uno sfratto che diventa realtà dopo anni di annunci, proclami, minacce, iniziati sin dalle ravalla. La vicenda non ha mancato di accendere polemiche, specialmente per la decisione di cambiare la destinazione d'uso del civico 23 di Corso Vittorio Emanuele II, da pubblico a commerciale, ipotesi apertamente avversata dalla consigliere del Partito Antonella Vaccaro.